Gli allevamenti intensivi, lo sappiamo, sono un problema da tanti punti di vista. Eppure una transizione verso un modello diverso incontra resistenze culturali, paure e difficoltà di diverso tipo. Un articolo di un magazine svizzero tradotto su Internazionale ci aiuta ad esplorare queste difficoltà, ma anche a capire che in fin dei conti si può fare. Parliamo anche di come l'industria del prosciutto di Parma sia in crisi per via della peste suina africana, anche qui cercando di capirne le varie ripercussioni, e ancora di comunicazione empatica con le altre specie animali, di fare rete sui territori e infine della salute e dell'ambiente in Sardegna. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 19 aprile 2024 e queste non mi rassegne, la segna stampa ha commentato a Italia che cambia. Sigla! Internazionale ha tradotto, anzi non solo ha tradotto ma l'ha proprio messo in copertina, un articolo molto bello e interessante di un magazine svizzero, dal nome non proprio originale, perché si chiama The D Magazine, che definirei un articolo all'Italia che cambia. Che voglio dire? Voglio dire che è un pezzo che parte da una storia personale di cambiamento per poi arrivare a parlare di un fenomeno più generale. La storia singola in questione è quella di una famiglia di agricoltori e allevatori che decidono di smettere di allevare animali per il macello e cercano un nuovo modello di business che non dipenda dalla sofferenza animale. L'articolo racconta la storia di questa coppia di giovani allevatori svizzeri, Tobias e Christine Burren, che gestiscono un'azienda agricola di famiglia, della famiglia di Tobias, di lui, che va avanti da molti decenni macellando mucche, polli e maiali e che a un certo punto decide, anzi loro due decidono, di cambiare radicalmente sistema. Lo fanno per un fatto apparentemente semplice ma anche toccante. Hanno avuto un figlio da poco e una notte Tobias, mentre culla il figlio, sente la mucca piangere nella stalla per aver perso il suo vitello di sei mesi. E questo lamento della mucca, che magari lo avrà sentito chissà quante volte in precedenza senza farci probabilmente neanche troppo caso, o forse facendoci caso ma insomma senza che da ciò scaturisse qualcosa, in quel momento, in quella particolare condizione psicologica, ecco questo fatto diventa dirimente, diventa un fatto che segna un prima e un dopo. Infatti Tobias e Christine decidono a quel punto di convertire la loro fattoria in una fattoria della vita o fattoria vegana o altre definizioni che vengono date nell'articolo, ovvero una fattoria in cui non si vendono prodotti animali o carne animale o di derivazione animale, ma in cui gli animali sono utilizzati solo a livello di ecosistema fattoria, quindi vengono tenute alcune galline per dargli gli scarti alimentari, per fertilizzare, qualche mucca per brucare i pascoli, anche lì per fertilizzare, qualche maiale e così via. Ovviamente molti meno di quelli degli animali che venivano in precedenza allevati per il macello, il che vuol dire che comunque si continua per circa un periodo di un anno a macellare alcuni animali fino a raggiungere le dimensioni giuste per quel tipo di attività. E a quel punto però i due devono reinventarsi un modello di business perché la vendita diretta di carne contribuiva a circa un terzo del bilancio aziendale. Qui l'articolo prende poi varie strade diverse e intreccia i vari livelli ed è qui che emergono a mio avviso gli aspetti più interessanti. Si esplorano infatti le sfide economiche e culturali di questa transizione mostrando come la scelta dei due metta in discussione non solo il modello economico della famiglia, della fattoria di famiglia, ma anche le tradizioni agricole e locali e il modo in cui la comunità percepisce il consumo di carne, perché la decisione provoca un conflitto generazionale molto acuto con il padre di Tobias, Ruedi, che è preoccupato per le implicazioni finanziarie di abbandonare la produzione di carne, ma scavando, e nell'articolo c'è anche un'intervista al padre, come sempre accade quando si tratta di esseri umani, emergono anche altre cose. Emerge ad esempio la storia personale, il fatto che anche il padre avesse messo in discussione il modello di fattoria del nonno, di suo padre, insomma, e quindi avesse deciso di puntare sulla vendita diretta di carne, mentre prima questa vendita veniva fatta alla grande distribuzione organizzata e quindi ci fosse stato anche in quel caso un conflitto e questo conflitto si ripresenta in qualche modo in maniera diversa fra lui e il figlio, a parti invertite, e emergono le resistenze del padre, le paure, le speranze e anche un po' tutta una parte irrazionale di difficoltà di abbandonare qualcosa a cui si è legati. Insomma, tutte cose tipicamente umane quando ci si trova di fronte a un cambiamento. E poi l'articolo esplora anche il livello macroscopico, quello dei dati, quello delle analisi. Dati e analisi sia sull'impatto climatico degli allevamenti intensivi, che conosciamo abbastanza bene, sia sulla questione etica, sia sulle scelte alimentari delle persone. Ad esempio in Svizzera circa il 5% delle persone è vegetariana e l'1% è vegano e questo fenomeno però dopo una rapida accelerazione nei primi anni 2000 si è un po' fermato, i numeri hanno continuato a crescere ma molto lentamente e fra l'altro è una crescita che a livello di numero di animali uccisi viene completamente azzerata dal fatto che anche la popolazione umana è cresciuta nel frattempo e fra l'altro viene consumato più pollo rispetto ad altri tipi di animali e quindi con un'uccisione maggiore a livello numerico, per cui ecco fatto sta che vengono uccisi più animali rispetto a 20 anni fa complessivamente. Un altro dato che ho trovato interessante nell'articolo che ha il pregio di non essere ideologico è uno studio che viene citato e che ha analizzato 10 diversi modelli alimentari per valutare la sostenibilità ambientale e la loro capacità di nutrire il maggior numero di persone sul pianeta. Fra questi il modello che si è dimostrato più efficace in termini di sostenibilità assoluta è la dieta vegetariana senza uova, quindi una via di mezzo fra vegetariana e vegana più spostata verso la vegetariana, mentre ovviamente è molto più sostenibile di quella carnivora ma anche più di quella vegana che invece non sfrutta efficacemente a livello appunto di ottimizzazione delle calorie utilizzate, calorie prodotte sulla superficie coltivabile, non sfrutta efficacemente tutti i terreni agricoli disponibili lasciando inutilizzati ampi spazi ad esempio collinari che potrebbero essere destinati al pascolo di illuminanti. Ma anche qui ovviamente come ancora l'articolo spiega dipende, nel senso che la Svizzera ha moltissimi pascoli di montagna che non potrebbero essere convertiti in agricoltura anche volendo e in quel caso può avere un senso avere diversi animali da pascolo, altrove questo ragionamento potrebbe non avere senso o avere molto meno senso. Quindi la soluzione giusta in assoluto non esiste ma esiste applicata a un contesto. E questo vale in generale, cioè quando si osservano i numeri macroscopici è importante ricordarci che poi ogni risposta va calata nel contesto e una soluzione che potrebbe funzionare da una parte e potrebbe non esserla migliore da un'altra. Un altro aspetto che ho trovato interessante è quello che nell'articolo viene chiamata anzi cultura dell'invisibilizzazione, scusate è un po' difficile da pronunciare, ovvero il paradosso per cui riusciamo ad avere da un lato una visione degli animali disneyzzata come la definisce la nostra amica ed etologa Chiara Grasso e al tempo stesso mangiarne a più non posso. E entrambe queste derive apparentemente opposte, quindi l'umanizzazione da un lato dell'altra specie e la segregazione a una vita tremenda e infine l'uccisione per finire in padella dall'altro lato, stanno assieme grazie al fatto che tutto ciò avviene lontano dai nostri occhi. Leggo dall'articolo, è la cultura dell'invisibilizzazione. La frase che mi sono appuntato, uccidiamo 85 milioni di animali all'anno, fondamentalmente è sbagliata, non li uccidiamo noi, li uccide qualcun altro per noi e l'industria della carne ce la mette tutta per aiutarci a non accorgercene. Gli animali sono nascosti negli allevamenti e anche le uccisioni avvengono di nascosto e il fatto che ogni singola morte lascia una ferita nell'anima di chi spara il proiettile in fronte all'animale non ci interessa, sono problemi suoi. Ecco, questo è un po' il succo dell'articolo, questi vari punti che vi ho elencato e la storia, molto interessante, che poi apre delle finestre anche su possibili altre persone che potrebbero seguire le loro orme. In realtà ci sono diversi articoli, anzi è un po' che il collega Paolo Cignini me ne segnala, sul fatto che in Svizzera sono diverse le fattorie che si stanno riconvertendo seguendo questa tipologia di fattoria. L'articolo non cita altri esempi ma so che ce ne sono. Ma perché vi ho parlato di questa storia? Perché ho pensato che fosse giusto darle risalto, per vari motivi in realtà. Non so se vi ricordate qualche giorno fa la puntata in cui abbiamo parlato di come potremmo riconvertire in 15 anni la stragrande maggioranza degli allevamenti intensivi mondiali semplicemente pagando gli allevatori per smettere di allevare animali e iniziare a tutelare la biodiversità. Ecco, era un articolo in quel caso fatto da due ricercatori, da due scienziati che analizzavano solo i numeri. Ho trovato questo articolo di oggi invece abbastanza complementare a quello nel mostrare anche la complessità della transizione. Il problema della transizione ecologica è solo in parte una questione pratica di numeri, di modelli economici e di modelli produttivi, perché come ogni cosa che riguarda gli esseri umani è anche tanto una faccenda irrazionale in cui entrano in gioco blocchi emotivi, paure, bisogno di identità, storia personale, relazioni con gli altri. Ed è importante considerare tutti questi aspetti quando proviamo a cambiare le cose, perché se facciamo finta che non esistano poi ci troviamo con le rivolte degli agricoltori, con il negazionismo climatico e fenomeni di questo genere, che sono il sintomo, il risultato visibile di pulsioni e resistenze invisibili che sono interne alla nostra società e anche alla nostra mente. Quindi in questo senso tenere assieme anche nei racconti giornalistici storie personali e numeri analisi è un modo interessante per affrontare le questioni, perché i due aspetti coesistono e se raccontiamo uno senza l'altro la storia è un po' zoppa. Poi al netto di tutto trovo interessante che Internazionale, che è il magazine di approfondimento giornalistico, non so se più letto ma probabilmente più influente culturalmente d'Italia, abbia scelto di mettere questa storia in copertina, mi sembra un segnale culturale importante. Comunque, tornando al doppio livello, vi segnalo due cose in chiusura di questa prima notizia, anzi tre. Se volete conoscere un po' di più i dati sulla situazione degli altri animali, o degli animali come noi, per citare quello di cui vi sto per parlare, in Italia e nel mondo, e anche che cosa si può fare per avere una vita cruelty free, vi consiglio, se per caso non lo avete ancora fatto di andarvi a leggere la nostra guida animali come noi, come vi dicevo, che abbiamo realizzato grazie al contributo di Lush e alla collaborazione di tantissime organizzazioni e che dà un sacco di informazioni e consigli pratici proprio sul tema del benessere animale. Invece, per prendervi cura della dimensione più intima e individuale, più impalpabile legata al nostro rapporto con le altre specie, vi segnalo un articolo nello specifico che esce proprio oggi, che peraltro è la nostra video storia della settimana, che racconta l'esperienza di Andrea Contri e della sua organizzazione Animal Talk. Andrea è un uomo con una spiccata sensibilità verso le altre specie viventi, animali in particolare, che dopo una serie di esperienze particolarmente profonde di connessione con alcuni animali, si accorge di riuscire a stabilire una comunicazione empatica, profonda con essi, lui la chiama da cuore a cuore. Anche qui c'è un vissuto personale che diventa una scelta di vita e diventa anche un modo per trasmettere questa conoscenza ad altre persone, quindi Andrea decide di fondare questa organizzazione appunto che si chiama Animal Talk, che promuove una comunicazione empatica con gli altri esseri animali. È una storia curiosa e affascinante che vi consiglio di approfondire se il tema vi appassiona. In ultimo vi ricordo che la scorsa settimana invece il nostro direttore Daniel Tarozzi ha intervistato Sara D'Angelo, coordinatrice della rete dei santuari animali liberi italiana, che ci racconta che cosa sono i santuari animali liberi e che sono un'esperienza abbastanza simile per alcuni versi, no non del tutto però, assimilabile per alcuni versi a quella di cui abbiamo parlato qui oggi e insomma l'articolo che abbiamo commentato tradotto da internazionale. Vi lascio tutti questi link sotto fonti e articoli sulla pagina della segna stampa e la titola del cambia.org in modo che li possiate trovare facilmente e andarvi a fare una cultura sugli animali, anzi sugli altri animali visto che anche noi lo siamo. Restiamo in tema altri animali per affrontare una questione un po' più spinosa ma che di nuovo ci fa capire la complessità della situazione. Sul fatto alimentare il direttore della testata Roberto Lapira racconta di come la peste suina africana rischi di distruggere l'industria del prosciutto di Parma e possa portare all'abbattimento di migliaia di maiali. Vi riassumo la notizia, poi facciamo qualche considerazione. In pratica l'articolo racconta di come l'epidemia di peste suina africana, che è un'infezione virale dei cinghiali e dei suini domestici, si sia estesa negli anni e adesso si è arrivata alle porte dell'area di produzione del prosciutto di Parma, dove ovviamente c'è un sacco di allevamenti di suini. L'articolo ha un taglio molto legato all'industria del prosciutto ma possiamo dedurne anche diverse altre considerazioni. Comunque continuo a riassumervelo. Questa diffusione dell'epidemia all'interno degli allevamenti, se avvenisse, potrebbe portare all'uccisione di migliaia e migliaia di maiali e alla crisi, ma forse anche alla fine secondo l'articolo, della industria del prosciutto di Parma. Industria che a sua volta, il consorzio nello specifico, è stata criticata per aver sottostimato la minaccia o più probabilmente per averla tenuta a tacere per non avere ripercussioni sul mercato finché forse non è diventata troppo tardi. Questo silenzio infatti ha portato a non prendere nessun tipo di misura per arginare alla diffusione dell'epidemia e questa inazione ha fatto solo sì che l'epidemia si diffondesse ulteriormente e più velocemente. Il Ministero dell'Agricoltura ha stanziato fondi per sostenere gli imprenditori colpiti, ma sembrano più un palliativo che una soluzione alla situazione e in molti hanno commentato appunto la mancanza di un piano efficace per contrastare l'epidemia. L'articolo si conclude spiegando come questa situazione appunto potrebbe portare a un crollo dei prezzi del prosciutto sul mercato interno a causa dell'impossibilità di esportare per via appunto della paura dei consumatori di appunto comprare il prosciutto potenzialmente contaminato e quindi minacciare seriamente l'esistenza stessa del prosciutto di Parmadop. Ora pensiamo anche qui a quante cose ci sono in ballo in questa notizia che ripeto ha un taglio prettamente legato al tema dell'industria alimentare ma da cui possiamo dedurne insomma diverse altre. Da un lato c'è appunto il tema economico di un comparto industriale che rischia di fallire, ma non solo industriale c'è anche il tema anche qui della cultura gastronomica italiana che è una parte non indifferente della nostra identità, cioè in Italia l'attecamento al cibo e alle tradizioni legate al cibo, il cibo tipico quindi prodotti DOP, prodotti GP, è probabilmente più sentita che altrove e il cibo rappresenta una parte importante della nostra identità, un legame anche familiare spesso che ci unisce ai nostri genitori, ai nostri nonni, è una parte del nostro racconto in buona parte inventato come ogni grande narrazione collettiva su chi siamo come popolo, come nazione e così via. Dall'altro lato però c'è sempre il tema degli allevamenti intensivi con le loro ripercussioni etiche ed ecologiche come abbiamo visto prima, ma anche con le questioni legate alla salute e alla diffusione delle epidemie, perché la peste suina diventa un problema soprattutto perché esistono gli allevamenti intensivi, che ne sono al tempo stesso una causa, perché sono così come dei grandi incubatori anche di epidemie, ma anche il motivo per cui ci preoccupiamo che esista la peste suina, altrimenti forse neanche ce ne saremmo accorti. E poi anche qui c'è il tema di un altro tipo di etica o di valori, diciamo che possiamo chiamare etica animalista o antispecista o vegana, che è diventata un pezzo molto importante dell'identità di molte persone, come il cibo e le tradizioni lo sono per altre persone. E tutto questo per dire che capisco che è complesso, ma penso che dobbiamo sforzarci di raccontare tutte queste cose tutte assieme e trovare soluzioni che tengano conto di tutti questi elementi, perché sennò rischiamo che le soluzioni che troviamo magari sono giuste, magari sono belle, ma poi non funzionano. Per questo sarebbe importante iniziare a utilizzare, quando dobbiamo trattare argomenti così complessi, modelli di governance collaborativi in cui tutte le persone coinvolte, ciascuna con il suo punto di vista, possa prendere parte dalle decisioni, portando appunto i diversi punti di vista, le diverse provenienze, storie personali, dati, analisi economiche, all'interno di quelle decisioni che poi magari potrebbero essere un po' più complesse e un po' più stabili nel tempo. E con questo anche oggi la governance ce l'abbiamo infilata. Fare rete è una delle formule più abusate dell'epoca moderna, talmente abusata che a me ogni tanto fa quasi venire l'orticaria, perché si farete per qualsiasi cosa, spesso anche quando non serve. Come sempre però il fatto che una cosa sia abusata non vuol dire che sia inutile, anzi molte volte è molto utile, soprattutto nella mia esperienza, quando questo avviene su territori specifici e in maniera inclusiva. Non vi dico altro perché ci pensa il nostro direttore Daniel Tarozzi a raccontarvi di un articolo uscito oggi su Italia che cambia, che a sua volta racconta di un nostro progetto di rete. A te Daniel. Ciao Andrea, buongiorno a tutte e tutti. Della comunicazione con gli animali hai già parlato, sono felice che oggi esca questa video intervista, questo articolo, perché è un tema che mi sta molto a cuore, un po' come è stato con la guida, animali come noi, veramente per me è fondamentale imparare ad ascoltare, a comprendere le altre creature. Mi chiedo spesso che cosa ci direbbero. Pensa se potessimo ascoltare gli animali degli allevamenti intensivi e avere i loro feedback, quanto diventerebbe più difficile tenerli in quelle condizioni. Ma ti racconto un'altra cosa, vi racconto un'altra cosa che è una bellissima novità, ovvero oggi c'è un articolo di Emanuela Sabidussi che vi invito veramente a leggere. Tra l'altro molto bello anche l'articolo perché è costruito attraverso una metafora con una favola, una zuppa di sasso, che è una favola bellissima anche questa per bimbi. Comunque questo articolo ripercorre la storia che ha portato poi alla nascita della nostra ultima creazione, che è il sito Valpennavare in rete, che ovviamente vi linkiamo qui in rassegna. Quindi vi invito sia a leggere l'articolo che a navigare il sito. La Valpennavare è una piccolissima valle nel Ponente Ligure, tra Liguria e Piemonte, provincia di Savona, provincia di Cuneo, vicino alla provincia di Imperia. Sono quattro paesini, qualche centinaio di abitanti dispersi. Io stesso vivo in questa valle e in questa meravigliosa valle che è stata spopolata negli ultimi cento anni, che si sta un pochino ripopolando negli ultimi anni, è stato portato avanti questo progetto che era nato prima col progetto Confine e poi adesso appunto con un focus proprio qua, su questo territorio, dove abbiamo cercato dal basso, Emanuele in prima persona ha cercato dal basso, di mettere in rete tutte quelle piccole attività che popolano questi luoghi, dalle aziende agricole, ai negozietti, a chi organizza camminate, a chi fa accoglienza, a chi fa proposte culturali, di tutti i tipi. Cose che magari sono scontate in una grande città, ma che qui fanno veramente la differenza tra la vita e la non vita in un paese di questo tipo. E quindi è stato bellissimo vedere decine di persone partecipare a questi incontri, saltellare da un comune all'altro per sognare insieme la propria valle e per poi arrivare a mettere appunto su questo sito, che è un sito semplice, semplicissimo, quasi banale, che presenta le varie attività, le varie possibilità, le varie botteghe, le varie attività sportive, i vari percorsi, i vari cammini che ci sono in questa valle, ma che per la prima volta dal basso mette insieme tutto ciò e permette a chi viene qui di scoprire che cosa può fare e magari anche ai vari gruppi di non organizzare le cose negli stessi giorni, sovrapponendosi tra loro e così via. C'è stato un grande entusiasmo che avevamo anche già raccontato in un altro articolo di Emanuela che raccontava di questa aiuola magica di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Voi direte, ma io che non vivo in Val Pennavaira, ma che mi importa, no? Ma per noi è veramente un prototipo quello che stiamo costruendo qui, di un modo di facilitare i cambiamenti dove noi siamo veramente solo un piccolissimo strumento, cioè getti neanche un seme, getti un'occasione e vedi come le persone hanno una grande voglia, una grande capacità di collaborare e diventano protagonisti e protagonisti senza che nessuno metta il cappello. Quindi Italia Cambia è stato servizio profondo di un percorso che si è attivato grazie alle persone che abitano questa valle e quindi veramente una meravigliosa zuppa di sasso che vi invito a leggere in questo articolo. Val Pennavaira in rete, la nuova inaspettata zuppa di sasso e poi magari a replicare questa cosa anche nella vostra piccola grande valle, piccola periferia, grande città o chissà cos'altro. Buon fine settimana e buon cambiamento. Oggi è venerdì, giornata di Rassegne Sarde e fra le tante notizie di questa puntata, della puntata di oggi di Non Mi Rassegno Sardegna, Alessandro Spericati, che quella Rassegna la conduce, ha scelto di parlarci di qualità dell'ambiente in Sardegna. La Sardegna è davvero quel patrimonio ambientale incontaminato da cartolina che ci immaginiamo, oppure no, oppure un po' sia un po' no? Non lo so, ma lo scopriamo insieme. A te Alessandro. Ciao Andrea, un saluto anche a tutti gli amici di Italia che cambia. 27esima puntata di Io Non Mi Rassegno Sardegna, come è sempre la rassegna stampa molto ricca. Vogliamo fare il focus su una notizia che ci deve aiutare a tenerci sempre un po' in allarme, perché è uscita in settimana il rapporto BES sulla classifica del benessere economico-sociale in Sardegna. Ebbene, l'immaginario dell'isola incantata potrebbe farci credere quando si parla di ambiente che la Sardegna possa sbaragliare ogni concorrenza. In effetti per quanto riguarda la qualità dell'aria è abbastanza così, ma oltre alle problematiche per quanto riguarda le polveri sottili, dobbiamo preoccuparci anche delle problematiche riguardanti i siti contaminati. Pensate, fra aree industriali, ex minerarie e aree militari sono più di mille le aree piccole e grandi contaminate in Sardegna, censite in Sardegna. Qualche anno fa i medici per l'ambiente avevano stimato che un sardo su tre vive in un territorio inquinato, il dato poi è stato smentito dalla regione, ma i numeri non sembrano raccontare insomma il paradiso incontaminato con cui spesso si presenta la cartolina Sardegna. Io vi saluto, vi invito ad ascoltare il nostro podcast e vi do la rivederci alla prossima Rassegna Stampa. Bene, grazie Alessandro, grazie Daniel, io direi che noi ci possiamo salutare qui, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre a partire dalle otto su canale YouTube, sulle principali piattaforme di podcasting, nonché sulla pagina Rassegna Stampa del cambia.org. Voi mi raccomando, state bene, fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto.